L'Unitalsi fa una triplica alle sue iniziative programmate per domenica 29 novembre. Al mattino i volontari Unitalsi insieme ad Ammalati e Pellegrini prenderanno parte alla Santa Messa delle ore 11 alla parrocchia Gran Madre di Dio. Durante la celebrazione si svolgerà il Rito dell'adesione, una manifestazione della scelta dei volontari ad impegnarsi in favore di malati, anziani e disabili e a prestare servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana. La seconda iniziativa si svolgerà nel pomeriggio alle 15.30 nella Basilica di San Paterniano per il tradizionale concerto di Natale. Oltre al coro polifonico malatestiano, al coro incanto malatestiano e al coro delle voci bianche, sempre del coro malatestiano, avremo anche l'orchestra di Santa Maria del Suffragio. Novità assoluta, avremo i solisti della Scuola International Opera Studio di Pesaro. Per quanto riguarda i trenini, saranno in vendita davanti la Gran Madre di Dio e davanti la Basilica di San Paterniano. È un'iniziativa che ci serve per raccogliere dei fondi per i nostri pellegrinaggi. Siamo riusciti quest'anno a ritornare ai livelli pre-crisi con la partecipazione, perché abbiamo aiutato tanti malati, tanti disabili, tanti anziani che non avrebbero altrimenti più potuto partecipare, però le nostre casse ne hanno risentito parecchio. Grazie a queste iniziative riusciremo anche il prossimo anno a continuare le nostre attività.